Paolo Lanfranchi, programmatore informatico, sindaco uscente di Dolzago in provincia di Lecco, tenta il Tris. Dopo 5 anni come vice sindaco e 10 come sindaco si candida per il terzo mandato. Signor sindaco, ha ancora tanto da dare per il suo paese? Diciamo che ho ancora tanta passione e tante idee da sviluppare. Gli anni in amministrazione passano davvero in fretta e le tante idee che vengono a beneficio del proprio paese non sempre rientrano nei canonici 5 anni, in questo caso neanche nei 10. Sicuramente io ma anche la squadra che mi accompagna ha ancora molto da dare a questo paese. In questi anni lei è stato un uomo solo al comando oppure tutta la sua squadra ha collaborato? Quelli che lavorano con me, i consiglieri e le consigliere ma anche quelli che fanno parte un po' del gruppo allargato molto spesso mi rimproverano amorevolmente anche delle troppe informazioni che passo al gruppo. Quello che conta per me è il lavoro di squadra. Sicuramente non può essere demandato tutto al sindaco, le decisioni importanti ma anche quelle meno vengono prese collegialmente perché altrimenti non si va molto lontano secondo me. Impegno comune per Dolzago, questo è il nome della sua lista, un nome che è già un programma, sì perché tutta la cittadinanza deve collaborare. Sì sicuramente anche il simbolo della nostra lista ormai storico perché da 10 anni che ci accompagna ci accompagnerà anche nelle elezioni di giugno è formato da tessere di un puzzle che vanno a comporsi in questo caso che compongono la bandiera italiana. Ma a noi piace immaginare appunto che ogni pezzo della società civile anche di Dolzago collabori al benessere collettivo. Abbiamo sempre detto anche nelle campagne elettorali precedenti che il palazzo del comune non è un palazzo delegato agli amministratori ma deve essere la casa un po' di tutti. Quindi cercando di appunto accogliere le istanze ma accogliere anche la buona volontà dei tanti cittadini che si danno da fare per il territorio. Per noi è fondamentale l'apporto ad esempio dell'associazione, dei volontari e quindi l'impegno comune lo estendiamo volentieri alla cittadinanza che fino a questo momento ci ha dato ragione. Dieci anni come sindaco, qual è l'opera più importante che ha realizzato assieme alla sua squadra in questi dieci anni? Sì, diciamo indubbiamente l'opera compiuta che abbiamo realizzato in questi dieci anni più importante per quanto mi riguarda è stato il miglioramento antisismico della scuola primaria inteso come opera pubblica vera e propria. In questo momento abbiamo avviato i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, abbiamo ottenuto 2 milioni e mezzo di euro dal PNRR ma andremo a realizzare una scuola dell'infanzia da 3 milioni e mezzo più o meno. Quindi anche quella sarà un'opera pubblica importante e queste due direi che sono le principali. Ma l'opera principale che abbiamo realizzato, e torno sulla domanda precedente, è creare un tessuto partecipativo all'interno del paese sicuramente e abbiamo reso soprattutto Dolzago protagonista anche nel nostro territorio. Il comune di Dolzago era visto come un comune che nelle decisioni anche sovracomunali veniva preso in considerazione fino a un certo punto. Da quando ci siamo noi ci siamo interessati anche a tematiche sovracomunali e direi anche provinciali e questo sicuramente è un punto importante che abbiamo sviluppato. I nomi della lista, tutti nuovi? Abbiamo avuto un forte ricambio, 7 persone su 10 dei candidati sono nuove persone, quelli che hanno lasciato naturalmente ci affiancheranno anche nel futuro portando idee, portando il volontariato che tutti e loro sviluppano e hanno sviluppato nel corso degli anni. La cosa che mi rende particolarmente orgoglioso è che sarà una lista a prevalenza rosa. Sicuramente le donne sono sei donne e quattro uomini. Lei è anche coordinatore per la provincia di Lecco di Avviso Pubblico. Cos'è questa associazione di cui lei è coordinatore per tutta la provincia di Lecco? Tutti avrete sentito parlare di Libera, immagino che è l'associazione delle associazioni che combattono le mafie sostanzialmente. Questa associazione che ha avviso pubblico raduna gli enti locali, inteso comuni, province e regioni, che si occupano di sensibilizzazione, formazione e attenzione verso i temi della legalità e contro la criminalità organizzata. In particolare in provincia di Lecco lavoriamo a strettissimo contatto con Libera e andiamo ad organizzare formazione per i dipendenti pubblici degli enti, ma andiamo a realizzare delle iniziative mirate anche alla cittadinanza per far capire che anche nel nostro territorio sicuramente non dobbiamo abbassare la guardia. Nel nostro territorio da sempre la mafia non è quella mafia tradizionale che spara o che si manifesta con la coppola in testa e la lupare in spalla, ma ha altri tipi di affari qua da noi, cerca di non infiltrarsi ma radicarsi, perché ormai si è radicata anche nel nostro territorio, magari all'interno di amministrazioni pubbliche, all'interno di attività commerciali e quant'altro e gestisce soldi. Ecco, è importante anche lo sforzo degli amministratori locali per tenere il focus e l'attenzione su questo punto. Nell'ultimo anno abbiamo triplicato il numero degli enti aderenti ad avviso pubblico, questa cosa mi rende particolarmente orgoglioso e tengo a sottolineare che l'appartenenza ad avviso pubblico non è in alcuna maniera connotata dai simboli di partito. Ci sono amministrazioni di centro-destra, amministrazioni di centro-sinistra che aderiscono e questa mi sembra una cosa da una parte scontata, dall'altra giusta, nel senso che non dobbiamo colorare politicamente la legalità o ricordarcene solo durante le campagne elettorali, ma tenere sempre viva l'attenzione. Per cui è presente anche nei nostri comuni e anche nel suo è presente la mafia? Ma sicuramente nel nostro territorio è presente, è presente sicuramente. Abbiamo avuto un po' di anni fa un episodio eclatante nel vicino comune di Castello di Brianza, ma è proprio una questione di confini perché è appena fuori dalle porte del nostro paese dove è stata fatta una mega retata, come si dice, nella quale sono state arrestate diverse persone, una delle quali era anche residente a Dolzago e si stava candidando all'epoca in una lista comunale. Per cui la risposta amaramente è sì. E bisogna avere sempre le antenne? Assolutamente sì, noi ce la mettiamo tutta, ci rendiamo conto che è anche difficile prendere una posizione rispetto a queste cose. Noi come gruppo, anche in vista delle prossime elezioni comunali, abbiamo firmato l'appello nazionale che è stato realizzato da Libera e avviso pubblico assieme appunto, che contiene un elenco di buone pratiche da mettere in campo nell'amministrazione locale, banalmente dall'affidamento degli appalti che deve essere di un certo tipo al cercare di disincentivare ai famosi favori che vengono chiesti all'interno delle amministrazioni comunali e via di questo passo, realizzare serate di testimonianza magari con parenti di vittime innocenti di mafia e cose di questo tipo. Ma Dolzago, che comune sarà nei prossimi cinque anni se verrà eletto? Dolzago, la Dolzago che ho in mente io è una Dolzago da un punto di vista sociale e dei cittadini come quella degli ultimi dieci anni. Un paese che si è risvegliato dal torpore, un paese che partecipa alle iniziative, un paese solidale, inclusivo. Da un punto di vista urbanistico, perché è importante anche quello, sicuramente con il piano di governo del territorio che vedrà l'adozione della variante all'interno del nuovo mandato, ci sarà un minimo di ridisegno della conformazione del territorio anche da un punto di vista edificatorio. Sicuramente, ma quello è per legge, andremo nella direzione del contenimento del consumo di suolo, andremo a recuperare, abbiamo già iniziato, delle aree degradate tipo quella dell'area Ex Passerini che c'è sul provinciale tra Dolzago e Bevera, ma in generale diciamo che il territorio di Dolzago è un territorio sufficientemente edificato. Diciamo che dobbiamo mantenere quello che c'è in essere, fare grande opera di manutenzione, anche pubblica, ma quello che ci interessa appunto è salvaguardare l'ambiente da una parte e salvaguardare la vita delle persone dall'altra. andremo in questa direzione. Bene, tanti auguri allora. Grazie mille, grazie.